Justin Bieber e Elie Baldwin hanno attirato molta attenzione mediatica negli ultimi due mesi. In particolare, hanno suscitato un misto di tenerezza ed anche irritazione tra i lettori dei tabloid, perché la relazione tra i due sembrava troppo dolce per essere vera. Ma ora che la notizia dell'avvenuto matrimonio è stata confermata, non c'è dubbio e amore.Viva gli sposi con un solo post. Justin Bieber ha infatti tolto ogni ombra. Dubbio adesso è veramente diventato il marito della giovane top model Elie Baldwin. Infatti Bieber ha scritto sul proprio profilo di Instagram Questo è il mio primo ringraziamento da uomo sposato. A dire di più, questa è la prima volta che ricevo ospiti nella mia casa in occasione di una festa, e ha poi aggiunto che tutti i parenti, sia i suoi, sia della sposa, si sono riuniti insieme per l'occasione. Ed anche se le voci relative al matrimonio tra Justin e Elie giravano già da circa due mesi, le dichiarazioni ufficiali sono arrivate solo ieri, sul profilo Instagram del cantante. I due sposi non volevano proprio ammetterlo, tanto che anche quando i paparazzi si sono presentati all'ufficio matrimoni di New York ed hanno assistito con i propri obiettivi all'evento, Kylie ha continuato a negare di essere la moglie di Justin. Nonostante l'abbia chiamato marito più volte in pubblico nel corso dell'ultimo mese. Regalo speciale e torta in faccia Ricordiamo che il giorno del ringraziamento quest'anno è stato particolarmente ricco per la coppia era anche il ventiduesimo compleanno di Elie. Per l'occasione, Justin ha preparato una torta di compleanno con la dedica ed uno scherzo alla festeggiata uno dei tanti pezzi del dessert le è volato dritto in faccia. Per quanto riguarda la mamma, vide, di Justin che, inizialmente, si era espressa negativamente sul matrimonio della coppia, ora sembra essere felicemente d'accordo con la scelta del figlio. Facendo gli auguri di compleanno alla modella, infatti, ha dichiarato di essere grata che il destino abbia fatto incontrare Justin e Elie che considera quest'ultima come una figlia. Ovviamente, quando a luglio hanno cominciato a parlare del fidanzamento, video virgola di Bieber, in molti si aspettavano una reazione da parte di Selina Gms, ma la giovane cantante ha dimostrato una totale indifferenza di fronte alla notizia. Dunque, niente può rovinare i festeggiamenti che, secondo quanto comunicato da alcuni amici del cantante, si svolgeranno nella nuova casa Bieber, acquistata per più di 5 milioni di dollari, nell'Ontario.